Gli scienziati del diciottesimo secolo erano convinti che l'intero universo fosse governato da formule matematiche e che fosse possibile calcolare tutto ciò che accadeva fino al minimo dettaglio. Quest'idea è nota come concezione meccanicistica del mondo in quanto i suoi seguaci vedevano l'universo come un'enorme macchina che seguiva ciecamente le leggi della fisica. Questa concezione dell'universo presentava però alcuni problemi. Tra gli scienziati infatti ve ne erano alcuni che avevano grosse difficoltà a racchiudere in semplici leggi tutto quello che accadeva in natura. Si trattava dei biologi che studiano tutto ciò che vive, nuota, striscia e cammina sul nostro pianeta. Esiste un numero apparentemente infinito di esseri viventi che sembrano non seguire alcuna legge prestabilita. Se un astronomo vuole descrivere il movimento dei pianeti nel sistema solare può usare le leggi di gravità di Newton e pochi numeri. Se un biologo vuole descrivere ciò che accade in un boschetto deve prendere in considerazione centinaia di tipi di piante, animali diversi che si comportano tutti in modo imprevedibile. L'astronomo può calcolare dove si troverà il pianeta Giove tra mille anni, ma nessun biologo può prevedere dove volerà una farfalla. Il mondo delle piante e degli animali era sconcertante e complesso e il fatto che i viaggi di scoperta mettessero in luce l'esistenza di organismi sempre nuovi in Africa, Australia, Asia e America non migliorava certo le cose. In pratica i biologi non riuscivano a stare al passo con le nuove scoperte. In primo luogo serviva un sistema che permettesse di mettere ordine tra gli esseri viventi. Aristotele aveva tentato di suddividere in gruppi gli animali e le piante, ma dalla sua epoca erano stati fatti pochissimi progressi. Era stato pubblicato qualche libro con illustrazioni e descrizioni di animali e piante, ma nessuno era riuscito a migliorare il sistema aristotelico. La svolta decisiva avvenne con lo svedese Carlo Linneo, nome italianizzato di Karl von Linne. Nato nel 1707, Linneo era affascinato dalle piante e già a otto anni veniva chiamato il piccolo botanico. Studiò medicina nelle università della città di Lund e di Apsala, ma la botanica, la scienza che studia le piante, era la materia che più lo appassionava. In passato i botanici si erano spesso accontentati di osservare il colore e la forma delle piante, ma Linneo cominciò a studiarle nei dettagli. Partì per diversi viaggi di esplorazione alla ricerca di nuove piante da osservare e con le conoscenze in tal modo acquisite, mise a punto un nuovo modo di classificare le piante. Linneo riferì dei suoi studi nel libro Sistema Natura, pubblicato nel 1735. Linneo definì specie un gruppo di esseri viventi dotati delle stesse caratteristiche. Tra le piante questi caratteri possono essere la forma delle foglie o dei petali, se si tratta di un fiore, o il modo in cui la pianta si riproduce. Tra gli animali, a distinguere una specie dalle altre, possono essere caratteri come le macchie sul pelo, la forma delle corna o delle orecchie, o il modo di vivere. Le femmine e i maschi di una stessa specie possono accoppiarsi tra di loro e dare origine a prole. Due animali appartenenti a specie diverse raramente riescono a far nascere dei figli e, se questo succede, nasce un animale che non è in grado di procreare. Sebbene i cani possano avere un aspetto diverso, appartengono alla stessa specie e per questo che cani apparentemente molto diversi possono accoppiarsi e fare dei cuccioli. Carlo Linneo notò che molte specie si assomigliano e raggruppò le specie simili in entità più ampie che denominò generi. Con l'aiuto di questi due raggruppamenti, le specie e il genere, Linneo riuscì a dare un nome a tutte le piante e gli animali. In passato i nomi erano casuali e spesso il nome variava da un luogo all'altro, cosa che poteva creare delle difficoltà ai botanici. Linneo invece attribuì a tutte le piante e a tutti gli animali un nome scientifico diviso in due parti. La prima parte del nome era rappresentata dal genere a cui apparteneva la specie e la seconda era il nome della specie. I nomi erano in latino, in modo tale che tutti gli scienziati potessero capirli a prescindere dal paese in cui abitavano. Tutti gli esseri viventi che vedi intorno a te hanno dunque due nomi, per esempio l'anemone che si vede in primavera, si chiama Epatica nobilis. Il nome di una specie si scrive più o meno come i nomi nell'elenco telefonico, con il cognome davanti al nome. Fu un grosso passo avanti. Finalmente i biologi avevano a disposizione delle regole fisse che permettevano loro di conseguire una visione d'insieme della molteplicità degli esseri presenti in natura. Il sistema era talmente funzionale che Linneo stesso diede nome a 16.000 piante e animali nel corso della sua carriera. I suoi successori continuarono il lavoro attribuendo nomi a piante e animali. Contemporaneamente svilupparono un sistema che organizzava tutto ciò che viveva sulla terra in gruppi sempre più ampi. Il leone costituisce un buon esempio per illustrare il funzionamento del sistema. Tutti i leoni appartengono alla specie Leo, che a sua volta fa parte del genere pantera. Il nome scientifico del leone è dunque pantera Leo. Anche le specie tigre, leopardo e giaguaro fanno parte del genere pantera, ma il genere va a formare a sua volta un gruppo superiore che viene definito famiglia. Tutti i felini, dal gatto domestico alla lincea leone, appartengono alla famiglia Felide, dei Felidi, a cui appartiene la sottofamiglia dei Felini. Esistono molte famiglie di generi animali. Una di queste è la famiglia degli animali simili ai cani, che si chiamano Canide, Canidi. Le famiglie dei Felini e dei Canidi hanno qualcosa in comune. Tutti i loro membri hanno denti affilati e si cibano di carne, perciò entrambe le famiglie appartengono a un gruppo ancora più ampio chiamato Ordine, insieme ad altre famiglie, fra cui gli Ienidi e gli Ursidi, appartengono all'Ordine Carnivora, in italiano Carnivori. Tutti gli animali dell'Ordine dei Carnivori hanno qualcosa in comune, tra gli altri con gli uomini, i bovini, gli elefanti e le balene. Sono vivipari, partoriscono figli vivi e allattano la prole. Gli animali che hanno queste proprietà appartengono a un gruppo ancora maggiore, una classe. La nostra classe si chiama Mammalia o Mammiferi. Esistono delle classi specifiche per uccelli, rettili, pesci, insetti e gasteropodi. Gli animali appartenenti alle classi dei mammiferi, degli uccelli, dei rettili e dei pesci hanno anch'essi qualcosa in comune. Una spina dorsale. Gli insetti e i gasteropodi, per esempio, non ce l'hanno. Gli animali dotati di spina dorsale sono raggruppati in un'entità ancora più grande, il tipo o filum dei cordata o cordati, di cui costituiscono un sottotipo, quello dei vertebrati. Gli insetti e i molluschi non hanno la spina dorsale, il loro scheletro è il guscio che riveste il loro corpo ed essi quindi appartengono agli invertebrati. La separazione maggiore in natura è quella tra gli animali e le piante. Insieme agli animali invertebrati, tutti gli animali vertebrati appartengono a un enorme gruppo denominato regno. Il nostro regno si chiama regno animale, animalia, mentre le piante verdi appartengono al regno vegetale, plante. Ci sono anche un regno dei funghi, fungi, e altri due regni. So che è complicato capire il collegamento tra tutti questi gruppi, ma cerchiamo di immaginare l'intera faccenda come una sorta di albero. Il tronco dell'albero rappresenta l'intera vita sulla terra. Dal tronco partono dei grossi rami, i regni. Da ciascun ramo partono molti rami più sottili, ognuno di questi è un tipo. Su ogni ramo del tipo trovi rami delle classi, che si ramificano in altri rami ancora più sottili, quelli degli ordini e successivamente delle famiglie. Da ciascun ramo delle famiglie partono quelle di generi e infine troverai i rami più sottili che rappresentano le specie. Esistono diversi milioni di specie, cosa che ti fa capire quanto sia gigantesco il grande albero della vita. Gran parte di questo complicato sistema era già stato individuato dagli scienziati all'inizio dell'Ottocento. Il punto su cui non riuscivano a trovare un accordo era cosa significassero in realtà questi gruppi. I nomi di alcuni raggruppamenti, per esempio quello di famiglia, parevano indicare che gli animali fossero realmente imparentati fra loro. Tuttavia a quell'epoca la maggior parte dei biologi era dell'opinione di Linneo e cioè pensava che Dio avesse creato le specie così come erano e che era sua volontà che si assomigliassero. Le specie non erano mai cambiate dal giorno della creazione né sarebbero cambiate in futuro. In effetti nella Bibbia non c'era scritto niente sull'esistenza in natura di un sistema ma lo si poteva spiegare con il fatto che le vie del Signore sono imperscrutabili. Noi uomini cioè non sempre capiamo la volontà di Dio. Se Dio desiderava che ci fossero molti animali che si assomigliavano dovevamo soltanto accettarlo. Più o meno la stessa cosa si diceva dei fossili. Da secoli ormai la gente trovava questi calchi di piante e animali impressi nella roccia. In Cina i resti fossili di ossa erano talmente diffusi che i cinesi li chiamavano ossa di drago, li macinavano e li utilizzavano in misture medicinali. Leonardo da Vinci era stato uno dei primi ad affermare che i fossili erano in realtà resti di organismi morti da tempo immemorabile. All'inizio dell'Ottocento vennero ritrovati dei fossili di animali enormi. Se non fosse stato per le dimensioni si sarebbe potuto pensare a scheletri di lucertole. Le lucertole fossilizzate erano state in vita gigantesca e dotate di grandi denti a guzzi e gli scienziati diedero loro il nome scientifico di dinosauria, composto da due parole greche che significano lucertola, terrificante. Da allora siamo sempre stati affascinati dai dinosauri che consideriamo ancora oggi una sorta di mostri. I biologi non riuscivano a spiegarsi come avessero fatto quegli animali a finire a diversi metri di profondità sotto numerosi strati di roccia. Una spiegazione possibile era che i dinosauri fossero annegati durante il diluvio universale di cui si parlava nella Bibbia, rimanendo poi sepolti sotto vari strati di fango e sabbia che nel corso del tempo si erano trasformati in roccia. Comunque non potevano essersi estinti tantissimo tempo prima. Nel 600 infatti un famoso arcivescovo inglese aveva usato la Bibbia per calcolare la data della creazione e aveva dedotto che Dio aveva creato il mondo a mezzogiorno del lunedì 23 ottobre 4004 avanti Cristo. È evidente dunque che una data come questa implicava che i dinosauri non potevano avere avuto il tempo di vivere a lungo sulla terra e di estinguersi. Nel 1830 l'inglese Charles Lyell pubblicò un libro intitolato Principi di Geologia. Lyell era un geologo, studiava cioè la costituzione, la struttura della terra e la sua evoluzione nel corso delle varie epoche. Lyell aveva studiato il paesaggio in molte parti d'Europa osservando il modo in cui si era trasformato con il passare del tempo per esempio come le valli fossero state scavate dai fiumi e come fossero emerse le montagne. Lyell era convinto che la maggior parte delle trasformazioni del paesaggio avvenisse in modo graduale molto lento. Per esempio potevano trascorrere migliaia di anni perché un fiume arrivasse a scavare una valle profonda e un vulcano poteva impiegare decine di migliaia di anni a dare origine a una nuova cima eruttando la sua lava. Probabilmente la terra aveva milioni di anni affermò Lyell. Dunque era convinto che doveva esserci stato uno spazio di tempo lunghissimo prima del periodo di cui si parlava nella Bibbia. Lyell pensava che in questa preistoria fossero esistiti degli esseri viventi che si erano in seguito estinti. I fossili potevano essere i resti di quelle forme di vita. Il fatto che i fossili si trovassero frequentemente sotto spessi strati di roccia risultava molto più facile da spiegare se si avevano a disposizione milioni di anni.